La MotoGP sottoaccusa, Stoner svela il piano per riportare Suzuki e Kawasaki in pista. Cari appassionati di motori e amanti della velocità, benvenuti a un nuovo e avvincente capitolo di The Sport News. Oggi affrontiamo una questione scottante nel mondo della MotoGP, il futuro di Suzuki e Kawasaki in pista, secondo il parere esplosivo di Casey Stoner, il due volte campione del mondo. Il colpo di scena della decisione di Suzuki di lasciare la MotoGP ha sconvolto il mondo delle corse, ma Stoner non si limita a commentare. Propone una soluzione rivoluzionaria che potrebbe riportare questi marchi iconici sulla griglia di partenza. Prima di addentrarci nei dettagli della sua proposta audace, facciamo un breve resoconto della situazione attuale. La casa di Amamatsu, vincitrice del titolo nel 2020 con Joan Mir, ha abbandonato il campionato, lasciando un vuoto che molti vorrebbero vedere riempito. Dorna Sports, l'organizzatore della MotoGP, nutre speranze di un ritorno futuro di Suzuki e, chissà, magari anche di Kawasaki, ma la chiave sembra essere il regolamento tecnico che verrà introdotto per il periodo 2027-2031. Stoner, noto per la sua franchezza, non esita a criticare aspramente il regolamento attuale della MotoGP. In un'intervista esclusiva rilasciata a TNT Sports, il pilota afferma che lo sviluppo tecnologico eccessivo ha portato la categoria in una direzione simile a quella della Formula One. Sorpassi difficili, problemi di visibilità eccessiva aerodinamica, sono solo alcuni dei problemi evidenziati da Stoner. Ma qual è la soluzione proposta dall'ex campione del mondo per riportare Suzuki e Kawasaki? Stoner sostiene con convinzione che un regolamento stabile a lungo termine con norme immutate per 10 anni potrebbe essere la chiave per attirare nuovi costruttori in griglia. Sapendo che le regole saranno le stesse per 10 anni, i costruttori potranno stabilire un budget realistico senza sorprese. Così potremmo assistere al ritorno trionfale di Suzuki, Kawasaki e di altri ancora, afferma Stoner con entusiasmo. Il fuoriclasse australiano non risparmia critiche nei confronti degli organizzatori della MotoGP, sottolineando la necessità di un intervento immediato per cambiare la situazione. La MotoGP deve rallentare, afferma categorico Stoner. Non abbiamo bisogno di emulare la F1 con sprint race e elettronica in eccesso. Vogliamo gare emozionanti, non una copia sbiadita di un'altra categoria. E voi, appassionati di motori, cosa ne pensate? Commentate qui sotto con le vostre opinioni e idee. E se non volete perdere nemmeno un aggiornamento sul mondo delle corse, iscrivetevi ora al nostro canale The Sport News. Sarà un viaggio emozionante attraverso il mondo delle corse su due ruote.